Si aspettano un concerto, ovviamente è un format particolare perché uniamo i castelli, le candele, le atmosfere sono decisamente belle, particolari. Siamo contenti perché abbiamo iniziato a luglio e il riscontro con le persone è stato in tutti i castelli molto alto. L'atmosfera delle candele, contrariamente ad un riflettore, dà una sensazione decisamente più intima e anche più vicina al pubblico. Credo davvero che questa nuova iniziativa possa davvero avere un seguito e mi auguro che continui a piacere al pubblico anche visti i riscontri fino adesso. Piccoli numeri perché sono concerti che alla fine contengono 250 persone, 240, 260, però tutti uscivano con il sorriso e con un grazie. Piccoli numeri Prevalentemente musiche da film, ma non le solite musiche da film. Forse è questo il punto di forza perché stimola tantissimo la curiosità. Grazie